Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite un cantatore rap, Salvo Boulevard A questo punto la prima domanda che ci sorge spontanea Come mai questo nome d'arte, ma soprattutto citando un paese, una zona americana poi? Allora io diciamo che mi sono avvicinato al grande mondo dell'hip hop grazie al writing, grazie ai graffiti Sin da piccolo mi piaceva disegnare e insieme ai miei amici, insieme alla mia crew abbiamo fondato una crew di graffiti E il primo nome che mi è venuto, diciamo, io avevo circa 14 anni ricordo, era Salvo Poi si intrecciavano bene le lettere, mi piaceva questo nome che veniva fuori, quindi mi piaceva questo nome E niente, poi me lo sono portato appresso negli anni e dopodiché, diciamo, il mio interesse è passato al rap Iniziando a fare freestyle così, nei giardinetti con gli amici E da lì è nato il nome Salvo MC Che è il nome con cui mi hanno chiamato tutti negli ultimi anni Salvo Boulevard è diciamo un po' l'evoluzione del nome Dopo questa nuova nascita, diciamo un po' il cambiamento da, tra virgolette, dall'underground al mainstream Volendo dirla così, volendola descrivere così Ho deciso di mettere questo nome Anche perché devi sapere che io ho passato circa dieci anni a Londra, in Inghilterra Ho vissuto Londra per circa dieci anni Quindi ho sempre un po' avuto questa cultura anglosassone, come posso dire Americana, sin da piccolo ho avuto amici americani E tutti loro mi hanno trasmesso questa cultura urban E tutto quello che ne è all'interno Dando a questo punto parliamo del singolo di debutto Che è giù dal metro Ma tenendo presente come nasce questo brano La cosa tra ispirazioni Ma metro e metro fanno la stessa linea Quindi che cosa c'è di particolare E come si sviluppa questo brano Per poi ottenere questo risultato Beh, il brano diciamo Volendolo chiamare Il classico brano d'amore Ma non del tutto classico Parla di un colpo di fulmine Parla di una storia mai accaduta Perché c'è il ragazzo che guarda Vede questa ragazza Così In metro E Poi la cerca in giro Senza mai Trovarla E' un brano E' un brano diciamo che è nato E' nato diversi mesi fa Noi dovevamo andare Dovevamo fare Sanremo Quest'anno ho partecipato Alla Quarta edizione Sì la terzi Quarta edizione di Sanremo Jukebox Che si è tenuto Che si è tenuto a Sanremo Durante la settimana del festival Presso Casa Sanremo Quindi Eravamo Eravamo lì durante il festival E ho partecipato a questo concorso Sanremo Jukebox E E niente Dovevamo trovare un brano Che Che andasse bene Ed è nata Ed è nata così Questa collaborazione con Amaranta Anche perché Io avevo Avevo sentito Dei suoi pezzi Avevo sentito la sua Fantastica voce E grazie al mio manager Mariotto MC Che colgo l'occasione di salutare E' nata questa fantastica collaborazione Ma Ti dico Ti dico la verità E' nato tutto E' successo tutto Molto velocemente Abbiamo 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 selezionato La strumentale Del grande Del grande produttore Gianni Quattrofasi Che saluto E Abbiamo selezionato La strumentale Ho scritto il testo E Amaranta Questa Questa grandissima artista Mi ha prestato la sua voce Abbiamo Registrato Mixato Girato il video E Due giorni dopo Sono partito per Sanremo Pronto per Per questa nuova avventura E Prima Prima di parlare di Sanremo Perché visto Sì L'hai citato Una copertina Dove ci sei Te Con il Con la barba Poi Ma soprattutto Con questa linea Che dovrebbe essere Più che il metro Dovebbe essere Una linea ferroviaria D'aver capito E Vabbè La metro Noi sappiamo che È underground Ma è anche Overground No? Quindi È anche fuori E A chi nasce l'idea Questa copertina? Com'è venuta l'idea? Sì Diciamo che Vabbè Sono Sono degli scatti Sono dei frame Presi Presi Dal video Durante Le registrazioni Come Come ti ripeto Abbiamo fatto tutto In meno di una settimana Tutto Il tutto Completamente Quindi Perché Perché L'occasione Diciamo È È È nata così Al Come si Si dice Dalla nostra parte È nato tutto Al volo E E così Ce la siamo presa Quindi Che dire E Un video Ha detto Che è girato In Canzone Registrata Video Registrato Tutto Registrato In una settimana Sì Cosa ti rimane Di quel Periodo Lunghissimo Che poi Sembra Lunghissimo E tanto Corto Di una Registrazione Di un Videoclip Perché poi Il videoclip Deve dimostrare Quello che è Anche L'artista È È stato Facile Semplice Divertente Guarda Che cosa Che cosa mi rimane Mi rimane Innanzitutto La stanchezza Di quei giorni Perché noi abbiamo fatto Tutto Step by step Ma tutto velocemente Abbiamo fatto il pezzo Abbiamo registrato Mixato Masterizzato Siamo andati A girare Il videoclip Videoclip Del grande Antonio Amendola Girato dal grande Antonio Amendola Che colgo L'occasione Di salutare E grazie anche Alla grandissima Mia amica Clare Ragone Che ci ha aiutato A A realizzare Questo Videoclip Abbiamo Registrato Montato E poi Sono andato A Sanremo Sanremo Siamo stati In tutti Quattro giorni Siamo saliti in auto Come ben sai Non siamo proprio Vicinissimi Quindi Il viaggio E poi Sanremo E Sanremo È tutto un È tutto un programma Come dire Le Le attività Iniziano Al mattino presto E finiscono Tarda Ma tarda Notte Poi dopo Torni in albergo Nemmeno il tempo Di appoggiarti Un po' sul letto Che ti devi Rialzare È stato È stato Un bel Tram Tram Ma È andato Benissimo Sono Sono super contento Anche perché Ha portato I seguiti Quale Quale emozione Ti porti dietro Dopo questo Tram Tram Però Emozionante Di Sanremo Quello che ti riporti Dietro E che In fondo Rimane anche Nel tuo cuore Di tutto questo Non solo La stanchezza Guarda È È stata Veramente Un'esperienza Entusiasmante Non solo Dal Dal punto di vista Artistico Ma Anche Diciamo È bella È bella L'aria Che si respira L'atmosfera Di quei giorni Con tutti Con tutti Il big Della musica italiana Con Con tutte le radio Tutte le interviste Che abbiamo fatto Le radio I giornali Le televisioni Per me Poi è la prima volta Quindi Come dire È Stato tutto Un susseguirsi Di eventi Di emozioni Che Che ci hanno Trascinato All'interno Di questa bellissima Avventura Che si chiama Sanremo Vengo Sono tornato a casa Con un bagaglio Ricco di Di esperienze Veramente positive Da Sotto tutti I punti di vista E Poi L'emozione Invece Del cantare Il tuo brano Vedere le facce Delle persone Che ascoltavano Il tuo brano E che Quei momenti Erano rilassate E emozionate Poi anche Poi Capendo E ascoltando Il tuo testo Qual è la tua Sensazione In quel caso Poi Beh Diciamo che Non Non è proprio Non è proprio Da poco Che faccio rap Quindi Esibirmi Su un palco Per me Oramai È diventata Fa parte Della mia vita Fa parte Di me stesso Del mio essere Quindi Non 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 ti nego Che Diciamo Vabbè In quel caso Sì sono stato Un po' emozionato E questo Non posso Negarlo Ad ogni modo È stato Bello Vedere La reazione Delle persone E Tutti I feedback Positivi Che Ho avuto Dopo L'esibizione Così Ripeto Le varie Interviste E Le altre Le altre cose Che abbiamo fatto Interessare Mese Tu vieni Appunto Mi hai detto Un'istruzione Una cultura Rap Americana Perché Inghilese Americana Quindi parliamo Di Eminem Che è più Conosciuto Certo Tupac A tanti altri artisti Poi Molti sconosciuti Perché È vissuto in America Ci sono molti sconosciuti Dove Il rap È Anima Del Sì Si parte Sempre dall'underground Perché anche I grandi Sono partiti Da lì Quindi Che poi tra l'altro È da dove Io vengo Io vengo Dall'underground E E Piano piano Si sta andando Diciamo Verso un'altra direzione Così Ma non bisogna Non bisogna Io quello che dico Un messaggio Che voglio dare Propri ai giovani Ascoltatori Del genere Non 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 sottovalutiamo E non tralasciamo Mai Le Le origini Le origini Le Bisogna sempre andare Un po' gli antipoti A A vedere Da dove è nata Questa cosa Perché esiste E È una cosa È importantissima Una cosa importantissima Progetti futuri Adesso Oltre a promuovere Chiaramente Questo singolo Che Ti sta dando Soddisfazioni Ci sono altri lavori Il promuovente Il Moventi live Sì 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 Live Vabbè Stasera Ovvero Tra Qualche ora Mi esibisco Al Gulliver Inn Di Cercola E sì Sto partecipando A questo Fantastico Contest Che Si chiama Free Music Contest È Un progetto Che va avanti Da Più di 15 anni E E niente Stasera Andiamo Porto il mio Rap Lì Porto il mio Live Diciamo Completo Quasi completo Del Di tutto Porterò il mio Nuovo singolo Porterò degli Inetiti Dei Dei nuovi singoli Al momento In generale Stiamo lavorando Sul Sul Prossimo Singolo Prossimo singolo C'è un sorpresone Perché Sarà un pezzo Diciamo Che Va sempre Sull'underground Che è Da dove io vengo Anche perché Diciamo Come Se vogliamo Parlare di questo Genere Qua Così proprio Underground Penso che sia Una delle Mie ultime Produzioni Ma non Non Ma non è mai Detto Diciamo così In generale Però Ci manteniamo Su questa linea E Il video è girato A New York New York City Quindi Sarà Sarà Una Una bella cosa Diciamo E Ancora una volta Il mio punto di vista Delle cose Il mio punto di vista Della città Il mio punto di vista Dell'America E Il prossimo singolo Si chiama La strada E E poi Cos'altro Vabbè Sto lavorando Il mio primo Primo E proprio Se possiamo dire Album Il mio primo Proprio EP Infatti sono in studio E Sì Assieme Ai miei Ai miei Produttori A mio produttore Gianni Quattrofasi Che saluto Grande Frankie Forward Da Palermo Che saluto Bella Legallo Da Ischia Che saluto E Stiamo Sì Stiamo Lavorando Stiamo Facendo Dei grossi Grossi lavori Il mio Il mio Diciamo Se posso dire Questo Se posso dare Un piccolo spoiler Iberto Il mio primo Album Non Sarà Del tutto Diciamo Un progetto Come dire Hip hop Toccherà Toccherà Altre Altre Sonorità Andremo Più Sulla dance Sul new Pop Sul Chissà Sul reggaeton Non posso Spoilerare Poi Troppe cose Perché Sennò Bisogna Cambiare Perché Non bisogna Essere Ghettizzati Perché A volte Si ghettizzi L'artista Lui è artista Il rap Lui è rock In realtà La musica Varia a secondo Del momento Dal secondo L'ispirazione Dal secondo Del sentimento Che si prova Quindi La musica Può essere variante Così Così Certo Non Ti ripeto Guarda Io non Non giudico Nemmeno Chi rimane Underground Oppure Vuole Eseguire Quella Linea Perché Alla fine Bisogna Essere Anche Aperti A nuove A nuove A nuove Linee Musicali Anche A nuove Tematiche E a nuovi Generi Anche Perché Sennò Che cosa Si rischia Di fare Rimanere Fossilizzati Sempre Sullo stesso Posto E Poi C'è Chi lo capisce In dieci anni Chi in dieci minuti Chi in una vita Però Penso che Ogni artista Vuoi o non vuoi Ha il suo La propria evoluzione Sì La propria evoluzione Artistica E Passando da Scendendo Dal metro E trovandoci In strada A questo punto Noi ci diamo Appuntamento Per Conoscere E ascoltare La strada Soprattutto Per presentare Il primo Disco Di produzione Così vediamo Se Scopriremo Se sarà solo In digitale O anche In forma fisica A questo punto Ci mancano Due cose fondamentali I tuoi indirizzi Dove raggiungerti E i saluti finali Va benissimo Allora Io innanzitutto Vorrei ringraziarti E vorrei ringraziare Tutti voi Di Radio Sport Piceno Per questa fantastica Intervista Online E voglio invitare A tutti A tutti Gli spettatori A vedere Il mio nuovo singolo Su Youtube Giù dal metro Salvo Boulevard E a A seguirmi Su tutte le mie pagine In particolare Facebook Instagram E TikTok Salvo Boulevard Un abbraccio a tutti Bella raga Salvo Boulevard La scuderia dei rappers Studio 7 TV Ciao a tutti Salvo Boulevard Studio 7 TV E Sport Piceno Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata